Il 1 novembre 1943 è una data che i riminesi si portano tragicamente addosso. Perché? Perché quel giorno accapita il primo bombardamento aereo sulla nostra città. Il Comune di Rimini vuole ricordare quello che è successo negli anni 43 e 44 attraverso una serie di podcast che affronteranno i vari temi legati alla distruzione dei Rimini. Il primo, quello del 1 novembre, sarà legato alla spiegazione di quello che avvenne in quella triste giornata. È un'operazione voluta fortemente dal Comune e che attraverso la Biblioteca e l'Istituto Storico della Resistenza per lo studio della storia contemporanea della provincia di Rimini in collaborazione con altri enti sul territorio vogliono realizzare per raccontare alle nuove generazioni che cosa fosse la vita dei loro antenati durante la guerra. Quindi è sicuramente un momento che deve servire a unire le generazioni e aiutare a portare avanti il ricordo di momenti tanto lottuosi ma che comunque hanno fatto la storia dei Rimini.